dalla splendida cornice della città di torino diamo avvio alla centosettesima edizione del giro ciclistico d'italia in un luogo così ricco di storia rinnoviamo ancora una volta lo storico connubio tra polizia stradale e giro d'italia la polizia stradale in contemporanea scorterà anche la sesta edizione del giro e riservata alle bici elettriche ed un circuito di pedalate amatoriali un giro nel giro organizzato da banca mediolano e condotto da sei campioni di ciclismo tra cui francesco moderno ma il giro d'italia è anche educazione e prevenzione a bordo del puno azzurro della polizia di stato parleremo di sicurezza stradale cercando di raggiungere il cuore dei grandi e dei più piccoli l'intero dispositivo è formato da 46 motociclisti 12 autovetture e 3 furgoni insieme affronteremo salite e discese tra adrenalina e commozione per garantire la sicurezza dei ciclisti e quest'anno per la centosettesima edizione del giro d'italia io sono auto 1 il comandante della sport